Vite bruciate, carriere pure, sporcate in un attimo di più cancellate, quella di Asasa Powell, giamaicano come Bolt, il quarto uomo più veloce al mondo, sui 100 metri, trovato positivo a un controllo antidoping, a Kingston, ai campionati nazionali della Giamaica. Quella di Tyson Gay, l'uomo da tutti considerato l'antibolt, beccato per una sostanza ancora non identificata, relativa a una gara effettuata nel mese di maggio. «Non sono un imbroglione, abbiamo avviato un'indagine interna per capire che cosa è successo», ha dichiarato Powell. Tyson Gay, invece, ha scelto la strada dell'ammissione senza nemmeno aspettare l'esito delle controanalisi. Ha deciso di mettersi fuori gioco da solo, con parole piene di colpa. «Non ho storie o scuse da trovare, ho solo messo la mia fiducia nelle mani sbagliate e ho fatto un errore». «Quale?», verrebbe da chiedergli, e soprattutto fidato di chi. Domande che rimangono sullo sfondo perché, in primo piano, ora ci sono le sue parole, accompagnate dalle lacrime. Nemmeno questo è un inedito. Fece lo stesso a Alex Schwarzer un anno fa, il marciatore dal volto antico. L'incubo di Schwarzer è lo stesso di Tyson, lo stesso di altri quattro atleti giamaicani e anche loro, beccati nelle ultime ore. C'è il nome di Shannon Simpson, oro ad Atene, vice campionessa a Pechino nel 2008, gli altri sono pesci piccoli. Soltanto un mese fa era toccato a Veronica Campbell-Brown, la giamaicana, con sette medaglie olimpiche, una delle atleti più vincenti della storia dell'atletica, trovata positiva a un controllo effettuato a maggio. «Aspettiamo le controanalisi prima di trarre conclusioni», dice Elliot, direttore dell'agenzia antitoping giamaicana. Tyson Gay piange perché sa bene che non c'è un modo per uscirne e nemmeno il tempo per la redenzione. Non andrà ai mondiali di Mosca, in programma tra meno di un mese, non ci sarà nessuna sfida con Usain Bolt. A 30 anni la sua carriera si chiude qui, detiene il record americano dei 100 metri, ai mondiali 2007 ha vinto loro sempre sui 100. Poi ha dovuto affrontare il tormento di problemi fisici continui. Finalmente quest'anno sembrava rinato. Ai recenti trials Usa aveva ottenuto il miglior tempo dell'anno, 975, sembrava l'inizio della grande riscossa. Era invece l'inizio della fine.